Davide Aiello, un deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Antimafia, domenica, sera a Casteldaccia ha subito una dura aggressione personale, sfrontata e proterva, in piazza e davanti a vari testimoni. L'aggressore ha inteso vendicarsi per la pubblica denuncia che Davide fece a suo tempo, nel corso di un suo intervento in Parlamento, di un sistema clientelare e di scambio messo in piedi a Casteldaccia in occasione delle scorse elezioni amministrative. Così su Facebook il leader in pectore dell'M5San, Giuseppe Conte. L'aggressore non solo è stato denunciato, ma ha ottenuto che adesso i riflettori sono più accesi che mai sulla denuncia fatta a suo tempo da Davide. Sono già stato a Casteldaccia, alle porte di Palermo. Ricordo bene la bruttissima alluvione che provocò lo straripamento del fiume Milicia e che si portò via due intere famiglie. Era il 3 novembre 2018 e, da presidente del Consiglio, mi recai subito sul posto per esprimere cordoglio ai parenti sopravvissuti e per verificare i danni, ha scritto ancora Conte. Tornerò prossimamente a Casteldaccia per mostrare solidarietà a Davide nella stessa piazza e nello stesso bar in cui è stato aggredito. Io non dimentico. Casteldaccia si aggiungerà agli altri luoghi, tra gli altri, il quartiere Borgo Vecchio di Palermo, dove i negozianti hanno denunciato il pizzo, che visiterò per dimostrare che noi resteremo sempre inflessibili e intransigenti nel difendere la legalità e nel contrastare tutti gli episodi di malaffare e i sistemi mafiosi. Davide siamo tutti con te, ha concluso.